Un saluto dal Tg della mobilità in corso, il piano di manutenzione straordinaria che entro il prossimo febbraio porterà alla sostituzione degli apparati elettrici nelle ultime stazioni della metro A rimaste senza adeguamenti. Dopo gli interventi nelle prime quattro stazioni interessate a seguire dal 2 al 5 gennaio sarà il turno della stazione di Lepanto e nei giorni successivi quelle di Spagna, Barberini e Repubblica. Le chiusure sono dovute alla necessità di interrompere tutti i servizi, compresi gli impianti di traslazione e illuminazione. Tutte le informazioni per i viaggiatori sono disponibili sul sito di atac.roma.it e sui canali di informabilità Twitter, Whatsapp e Telegram. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.